Chiederei a Bassetti come mai ad esempio ha voluto impedire la proiezione di un film a Genova che si chiama Invisibili, che era quello che narrava degli effetti avversi su questo vaccino e deve rispondere perché lei ormai non è più solo un medico, con tutta la possibilità che ha avuto dalle televisioni, è diventato un personaggio politico, quindi deve rispondere politicamente. Lei parla anche di ristrutturazione di case, non credo che sia il suo mestiere, ho sbaglio, ho sbaglio. Mi è molto simpatico, non condivido neanche un'idea di quelle che lei porta avanti. Vabbè, vedetevi un giorno a Genova, prendetevi un caffè insieme e confrontatevi anche duramente su questi temi.